L'innovazione vince contro la crisi nel 2014. Le oltre 1.500 imprese ad alta tecnologia della Toscana hanno aumentato il loro fatturato, che supera i 18 miliardi di euro, investendo sempre di più in ricerca e innovazione e assumendo ancora più personale, altamente qualificato per un totale di 45.000 addetti. Questa è l'immagine positiva scattata dall'osservatorio sulle imprese high-tech, frutto della collaborazione fra Union Camere Toscana e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Queste imprese sono imprese che esportano oltre il 50% mediamente, dipende dai vari settori, ma comunque oltre il 50% del loro fatturato e quindi contribuiscono e hanno contribuito in questi anni, in questi ultimi anni, specialmente dove l'economia nostra ha dimostrato qualche limite, diciamo si è messa a sedere, ecco attraverso queste imprese invece noi siamo riusciti ad andare avanti. Pisa e Firenze si confermano le province più high-tech, mentre i settori predominanti sono l'information e communication technology, la meccanica avanzata e le scienze della vita, un successo che dipende anche dall'espansione sui mercati internazionali, per questo settore strategico su cui la Regione Toscana punta con decisione. Come Regione Toscana noi le sosteniamo da più punti di vista, le sosteniamo ovviamente prima di tutto con i 253 milioni di euro che abbiamo messo per quanto riguarda il sostegno alla ricerca e sviluppo, con gli 80 milioni che la Regione ha stanziato per il rafforzamento delle infrastrutture ICT nella nostra Regione e con poi le scelte più generali di accesso al credito. Ma credo che sia importante per questo settore anche il riordino complessivo che abbiamo fatto di distretti tecnologici che possono rappresentare davvero una struttura che dà servizio a queste imprese per farle crescere ancora di più.